Eh ma lo sanno tutti, lo sai tu, lo so io, quelli che sono in commercio lo sanno tutti che è così. Se devo venire giù a lavorare per gli altri me ne vado da qualche altra parte. E allora tanto vale essere sotto... Eh lo so però, voglio dire che...